Dovete guardare Hatching, schiusa, tolta la componente dell'orrore di questo uovo che diventa grande e poi fa nascere una specie di pulcino che poi diventa umana e diventa proprio la nostra protagonista, perché poi è lei che lo cova con tutte le sue reazioni emotive, il suo pianto, tutto il dolore che prova. Tolta questa componente, il film parla realmente di una ragazzina che non riesce a capire il mondo dove vive. Perché le persone si dividono, pensiamo noi, sempre in due categorie. Chi capisce la falsità degli altri si adegua, chi non la capisce egli va contro. Invece c'è questa ragazzina che pensa che sia quello il vero mondo e lei non capisce perché lei non è così. E in automatico piange abbracciata a questo uovo che prima da piccolo poi diventa grande, lo schiuderà lei, lo coverà lei e si schiuderà e creerà un'altra se stessa man mano. Una se stessa che è esattamente tutto quello che lei non è. Quindi competitiva, cattiva, ambiziosa. Questo film è molto bello, questo film non parla assolutamente dell'orrore. Se non ci mettiamo in mezzo appunto il fatto che i nostri figli da quando hanno 12 anni a che diventano adolescenti, le ragazze anche con il ciclo mestruale, botte ormonali varie, noi dobbiamo riuscire a capire il loro mondo, non obbligarli a entrare nel nostro felici o tristi di esserci.